La confessione di Adua del Vesco sull'omosessualità di Massimiliano Mora viene confermata dalla reazione di Dei Enmello si vedeva La presunta confessione al GFVip di Adua del Vesco sull'omosessualità del suo ex fidanzato Massimiliano Mora viene avvalorata e confermata dalla reazione immediata di Dei Enmello Scopriamo insieme come è andata e le parole esatte della modella che confermano le parole sussurrate della Del Vesco Leggi anche, GFVip, Massimiliano Mora è gay, la conferma di Adua del Vesco, video, foto, chiocciola dei Enmio Real, ig, Massimiliano Mora gay come garco? Una nuova incredibile bomba è scoppiata sulla testa di uno dei concorrenti del GFVip, stiamo parlando di Massimiliano Mora accusato di fingere la sua relazione con Dalila Muccedero per nascondere la sua omosessualità proprio come garco A confessare tutto sarebbe proprio l'ex fidanzata in comune con il belga Avrian, Adua del Vesco Ecco cosa riporta la ragazza Dei Enmello e Matilde Brandi, dopo aver notato una strategia in atto tra Mora e Gwendagorio che starebbero fingendo l'inizio di un flare, e avvicinandosi all'orecchio di Dei Enmello ha poi aggiunto, foto, chiocciola Adua Del punto Vesco, ig, la reazione di Dei Enmello Dei Enmello non sembra particolarmente sorpresa dalla dichiarazione della coinquilina del GFVip sull'omosessualità di Massimiliano Mora La modella dopo la confessione sembra riuscire ad apprendere finalmente il quadro generale e precisa.www It, WP, content duplo a 2020-2010-Adua del Vesco Massimiliano Mora Gay MP4 secondo dei Ehi l'omosessualità dell'attore sarebbe evidente e a quel punto chiede spiegazione sulla presunta fidanzata, pronta, quindi la risposta di Adua, cos'altro ci sarà da aggiungere? Restate aggiornati con per scoprirlo e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!